Assumermi la responsabilità dell'altro. Far sì che l'altro entri nella mia vita ma senza sostituirmi a lui, accarezzare la sua solitudine ma senza colmarla, perché noi uomini non possiamo colmare la solitudine di un'altra persona. Ma l'essere vicino, sentirsi sostenuti, il non parlare e fare gesti di amore e di tenerezza come una carezza, tenerezza e carezza, vedete, c'è anche la rima, vuol dire che vanno d'accordo. Questo può aiutare l'altro a cercare la felicità per colmare la sua solitudine interiore. E vi è anche un altro modo di educaremi alla felicità, educandomi all'altro, al volto dell'altro, a far sì che l'altro mi stia a cuore. Qual è questo modo? Lo prendo da una citazione che riporta Fra Emiliano Antenucci nel suo libro Felici perché amati, edito dalla EFATA editrice, riporta a un certo punto un piccolo dialogo tra il padre e il figlio del film La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Sentite che il padre cosa dice al figlio? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me, ok? E il figlio risponde, ok. Il padre, se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai fare. Se vuoi qualcosa vai lì e inseguila. Ma io credo che se a queste parole belle, sagge, noi mettessimo le ultime parole che il Papa sta dicendo ai giovani, il senso è lo stesso. Mai dire a un altro tu non sai fare, tu non lo puoi fare, tu non ci riuscirai. Mai, mai. Perché? Perché vuol dire non rispettare l'altro, vuol dire non sentire l'altro come parte di se stessi. Mai dire all'altro tu sei un fallimento, perché nessuno è un fallimento. Mai dire all'altro tu non ci riuscirai. Perché se io non ci riesco, come abbiamo ascoltato, poi dico anche l'altro non ci riesce. Allora invece bisogna il vero educatore, colui che ha nel cuore l'altro, dice sempre coraggio. Le difficoltà ci sono, ma se questo sogno tu lo senti nel cuore, muovi i primi passi. Vai avanti, metticela tutta per poter inseguire e realizzare i tuoi sogni. Non ci riuscirai, ma avrai fatto esperienza, ti sarai messo la prova, avrai lottato e questo ti aiuterà a inseguire altri sogni, perché nella vita i sogni non devono mai cessare. Lo voglio dire ancora una volta, non so se l'ho detto qui, ma l'ho detto un po' in giro. Tra le tante frasi che ho letto in preparazione al sinodo che si è concluso dei giovani, mi ha colpito questa frase. I giovani hanno detto alla Chiesa e al mondo, a me e a voi, che molti di loro hanno smesso di sognare. Questo è qualcosa che ci deve far sentire male nel cuore. Impedire di sognare agli altri vuol dire non essere umani e non essere nemmeno cristiani. Ci vediamo domani, Paripio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!